Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi sono qui per girarvi un nuovo video. Un video sicuramente diverso dal solito. Sono qui per dirvi finalmente cos'è accaduto con Emetim. Ma partiamo dall'inizio. Seguivo Bugalalla da quando era ancora in Italia e mi ero trovata bene nella sua community su Twitch. Quindi ci siamo avvicinate parecchio. In questo stesso periodo Bugalalla era partita per l'America e aveva iniziato a collaborare con Emetim. È a questo punto che Bugalalla mi racconta che la dottoressa Roberta Bruzzone sarebbe una bulla. In quanto insultava la famiglia di Mario Biondo, un ragazzo che è venuto a mancare a Madrid, in Spagna. Bugalalla quindi mi spiega che ci sono una serie di account fake che la stanno perseguitando. Proprio perché ha iniziato a lavorare per Emetim, ma soprattutto perché sta trattando il caso di Mario per cercare di ottenere una svolta che possa portare a una riapertura delle indagini. I commenti non me li sono inventati io. C'erano. Quindi ci ho creduto. In circa un mese però la situazione cambia. Perché si inserisce Jonathan Benamy che inizia a martellarmi di informazioni, tutte quante su Roberta Bruzzone. Roberta Bruzzone a suo parere farebbe infedele patrocinio, non rispetterebbe i suoi vecchi clienti, ha molti poteri, tanto che sceglierebbe lei PM presso cui depositare le denunce, riuscendo inoltre a fare archiviare tutte quelle che sono a suo carico. Carica di tutte queste informazioni, ahimè, vado in live da Bugalalla nel gennaio del 2022. Ero molto arrabbiata perché ai miei occhi tutto ciò che mi avevano raccontato rappresentava il vero. Peccato che, andando in live, ho commesso un gravissimo errore. Sono molto arrabbiata con me stessa per esserci cascata e per essermi fidata di una persona che si è rivelata, Alla fine, tutto tranne che amica. Una persona che tutt'oggi porta avanti questa situazione altamente problematica. Non credo assolutamente più a ciò che ho affermato. L'ho fatto distinto, credendo a Bugalalla e avendo soprattutto fiducia delle prove fornite da M-Team, che ho scoperto poi essere totalmente fasulle e che mi hanno portato ad avere quella reazione. Non penso dunque che Roberta Bruzzone sia una criminale, assolutamente. Non era mia intenzione, inoltre, mettere in dubbio la sua professionalità, la sua battaglia contro la violenza sulle donne, né usare espressione che potessero in qualche modo ledere la sua immagine. Ecco perché è doveroso che io chieda scusa. Non avrei mai dovuto fare quelle affermazioni. Chiedo inoltre scusa a Monica Demma, Giovanni Langella e all'avvocato Serena Gasperini. Sicuramente non hanno vissuto bene neanche loro quel periodo, in parte anche a causa delle parole che ho detto anche io. Sono certa che tutt'oggi continuino ad essere stressati da questa situazione, che va avanti ormai da quasi un anno e mezzo. Così come Roberta Bruzzone, che credo sia ormai logorata da tutto questo, è giustamente arrabbiata. Io purtroppo ho continuato a credere a quello che mi diceva Vugalalla e Jonathan di Mteam per mesi. Voglio che questo sia chiaro a tutti. Più passava il tempo, più notavo che Vugalalla si avvicinava, anche perché corrisponde a verità quando vi dice che ha iniziato ad essere martellata da alcuni fake. Li ho visti anche io. La prova, dunque, c'era. Questi comportamenti di certo non mi hanno aiutata a distaccarmi, anche se alla fine pure i fake in questa storia si sono battuti per far emergere la verità. Poi ho scoperto che questi fake erano tali proprio perché i loro veri profili erano stati bannati dalla pagina di Mteam su Facebook. In quel periodo però sentivo che Vugalalla stava soffrendo. Io ero molto dispiaciuta in quanto era arrivata a considerarla come un'amica. E di questo me ne pento più che mai. Mi fidavo di Vugalalla. Questo è stato il mio più grande errore. Mteam, o almeno Jonathan Benami, mi ha mostrato dei video, degli screen, delle prove totalmente decontestualizzate, manipolando la realtà. Di base, quello che ricordo di quel periodo è la pressione. Dopo la prima live a cui ho partecipato, ci sono stati altri inviti che però ho declinato. Ho partecipato ad altre live che però non riguardavano questa storia. Ad oggi credo che probabilmente mi volevano convincere a fare dei video sul mio canale con le prove fornite proprio da Mteam. Cosa che io però non ho mai fatto. Ricevevo costantemente chiamate da Jonathan, il quale giorno dopo giorno mi continuava a raccontare cose diffamanti su Roberta Bruzzone. Ciò che diceva lo raccontava con una convinzione tale che mi ha portato a credergli. La verità è che Jonathan Benami ti porta a credere alla sua versione dei fatti, distorcendo la realtà. Tanti ancora credono ad Mteam, ma spero che questo video possa in qualche modo far aprire gli occhi a quelle persone che ancora sono convinte che questo team esista davvero. Dunque, questo gruppo di account fake, oltre a mettere in ridicolo ciò che pubblicava Mteam sulla sua pagina Facebook, aveva iniziato a tirare in mezzo un certo Mirko Zeppellini. A me, come a tutti voi, è stato detto che questo soggetto era un cliente di Mteam. Dall'altra parte, i suddetti account fake insistevano nel sostenere che, in realtà, dietro ad Mteam c'era solo Mirko Zeppellini, ossia un truffatore, era lui che gestiva il tutto. Io però continuavo comunque a credere alla versione di Jonathan. Ero convinta che dicesse la verità. Anche perché, nel frattempo, in live intervenivano anche diversi parenti delle vittime dei casi che Mteam trattava, sostenendo che non vi era nessuna truffa. Se lo sostenevano i parenti delle vittime, perché mai non avrei dovuto credere alle loro parole? C'erano inoltre diversi avvocati che venivano invitati in live e che, in effetti, affermavano che Bugalalla fosse vittima di atti persecutori. Jonathan Benami ha convinto tante persone, me compresa, a partecipare a una class action proprio contro Roberta Bruzzone. Io stesso ho pagato 800 euro. Preciso che, nel mio caso, questi soldi sono stati versati tramite PayPal, direttamente a Bugalalla. Tenete a mente questa informazione. Ci ritorneremo in seguito. Il motivo? Beh, stando a ciò che affermava e afferma tuttora Jonathan, tutti i profili fake ruotano attorno a lei, a Roberta Bruzzone. Poi, mi aveva detto che, dietro alcuni profili fake, c'era proprio Roberta Bruzzone in persona. E non solo. La verità è che non mi sarei mai e poi mai immaginata che sarebbe emerso tutto ciò che è stato detto negli ultimi mesi. Mai avrei pensato che queste persone raggirassero i loro clienti. Mai mi sarei immaginata che facessero firmare perizie in bianco. È un fatto che ora M. Team si è indagato a Napoli Nord per aver depositato prove false riguardo il caso di Tiziana Cantone. È un fatto che, dietro M. Team, ci sia solo Mirko Zeppellini. Ma, durante quei mesi, tutto era molto convincente ai miei occhi. Solo che ho iniziato a sentire le energie che, piano piano, venivano meno. Non stavo riuscendo a gestire bene la situazione dal punto di vista psicologico. Ero debole, faticavo a portare avanti quello che era ed è tuttora il mio lavoro. Perché le informazioni che mi davano in continuazione mi facevano perdere totalmente il focus su quello che dovevo fare. Quindi, piano piano decido di allontanarmi. Ormai erano passati mesi. Ed è proprio a quel punto che, pian piano, allontanandomi da quella morsa, da quelle telefonate, riesco a capirci qualcosa. Ma, ancora, la vicenda, per me, non era del tutto chiara. Nel frattempo, Sebastiano Serafini, quello che oggi è il mio manager, stava creando un videogioco horror, Unfollow, di cui è già uscita la demo, basato sull'influenza che i social media hanno sulla salute mentale delle persone. Per trattare al meglio questo tema, Sebastiano ha inserito all'interno del gioco vari influencer del calibro di Elisa True Crime, Barba Scura, Shanti, Violetta Rox, e tanti altri, che non sto a citare perché l'elenco sarebbe lunghissimo. Anch'io sono presente in questo gioco. Valutando l'opzione di assegnare un ruolo anche a Bugalalla, Sebastiano a quel punto la contatta. L'azienda di Sebastiano Serafini con sede in Giappone era stata costituita da poco, ma stava crescendo in fretta, e per questo motivo era necessario che fosse seguita da uno o più avvocati, preferibilmente esperti in diritto internazionale e diritto d'autore, per poter stilare i contratti e poter procedere con i progetti. Parlando con Bugalalla viene fuori questo discorso e Sebastiano le dice che stava appunto valutando dei preventivi e sentendo dei legali, ma ancora non aveva deciso a chi rivolgersi effettivamente. Uno di questi è poi diventato illegale della Serafini Production, ma in quel momento Bugalalla gli propone di rivolgersi a M-Team, a detta suo uno studio legale che aveva in effetti prezzi molto più abbordabili rispetto ad altri studi legali. Il fine era quello di far preparare questi contratti, in quanto secondo Bugalalla con loro sarebbe stato in una botte di ferro. Inoltre io e Sebastiano avevamo intenzione di intraprendere una collaborazione lavorativa, dunque avevamo la necessità di avere un contratto che regolasse il nostro rapporto lavorativo. Quindi, perché non rivolgersi a M-Team? È a questo punto che iniziano i problemi. I contratti non arrivano. Ma c'è stranamente parecchio interesse nell'ottenere i dati personali di coloro che parteciperanno al gioco. Sebastiano chiede il motivo, ma gli rispondono che sono dati necessari da inserire nel contratto e che senza non lo avrebbero preparato, iniziando ad avere toni un po' aggressivi nelle richieste. Sebastiano non ha condiviso alcun dato personale e in attesa di capire se fosse necessario mandare questi dati per la preparazione di un contratto, ha anche chiesto di firmare un accordo di riservatezza nel caso avesse dovuto condividere queste informazioni. Ma non ha mai ricevuto nulla, non solo. Alla fine, dopo aver effettuato due bonifici per un totale di 7600 dollari, Sebastiano non ha ricevuto nessun contratto e nessuna attività di quella concordata. Ma non è finita qui. Sebastiano ha scelto di rivolgersi a questa nuova legale, anche perché il trattamento che gli hanno riservato era tutto fuorché professionale. Ma su questo punto approfondirà meglio l'attuale avvocato di Sebastiano, che interverrà in questo video per spiegare quello che è successo. Dopo che Sebastiano ha preso le distanze da M-Team, loro hanno contattato anche me per dirmi che Sebastiano non aveva una partita IVA, stava facendo tutto in modo irregolare. Insomma, lo diffamano apertamente in una chiamata con me, secondo me, con l'intenzione chiara di far andare a monte la nostra collaborazione. Tra l'altro, in tutto questo, la preoccupazione di Sebastiano, al di là dell'aspetto economico e lavorativo, è stata tutelare Bugalalla. Era preoccupato per lei, quindi non ha chiamatala addirittura lessa in guardia da M-Team, in quanto era convinto che Francesca fosse da sola, in America, lontana dalla famiglia e bullizzata. Durante l'ultima chiamata, Sebastiano dice chiaramente a Bugalalla che si è affidato a M-Team, perché gliel'ha consigliato lei. Inoltre, durante la chiamata, Sebastiano dice a Bugalalla che non era mai stato trattato in questo modo da nessuno, men che meno da una persona che avrebbe dovuto svolgere un lavoro per lui. Sebastiano era molto preoccupato dal fatto che se avevano trattato in questo modo lui, come potevano trattare i parenti delle vittime dei casi che stavano seguendo. A questo punto Bugalalla dice a Sebastiano che lei collabora con M-Team e fa parte del team e tutto quello che Sebastiano le dice viene registrato, perché tutte le telefonate negli States vengono registrate. Ora vedrete l'intervento dell'avvocato attuale della Serafini Production, che vi spiegherà come sono andate le cose e perché Sebastiano ha scelto di togliere il mandato a M-Team a seguito di due chiamate. La prima è avvenuta tra lui e Jonathan, la seconda è avvenuta tra lui e Bugalalla. Ho conosciuto Sebastiano quando mi ha contattata perché con la sua società, la Serafini Production, aveva bisogno di consulenza e assistenza per la redazione di una serie di contratti per lo sviluppo principalmente di un nuovo videogioco che voleva realizzare Unfollow e poi per la gestione dei rapporti con i suoi collaboratori, con gli influencer che avrebbe voluto includere nel suo videogioco e poi per la tutela della proprietà intellettuale e del marchio per la sua attività. Io da anni mi occupo di questo, quindi della redazione di contratti e soprattutto anche della tutela della proprietà intellettuale e anche dei software in favore dei miei clienti. Quando Sebastiano mi ha contattata mi ha da subito detto che però si era già rivolto nel frattempo a un altro studio legale che gli era stato consigliato caldamente da un influencer che lui avrebbe voluto inserire nel videogioco Unfollow e che gli aveva consigliato questo studio legale in quanto molto bravi e molto performanti nell'assistenza ai loro clienti. Tuttavia la prima cosa che Sebastiano mi ha chiesto è stato di vedere, di esaminare il contratto, il mandato, l'incarico che aveva dato a questo studio legale, così me l'aveva presentato, perché ovviamente non sapeva se avrebbe potuto rivolgersi a un altro consulente nel frattempo, era un contratto che aveva una scadenza, era ancora in essere, e quindi giustamente lui mi diceva non so se posso rivolgermi a un altro avvocato, ho pagato già una somma importante, non ho ancora ricevuto nulla e quindi mi ha girato il contratto. Devo dire che da subito sono rimasta un po' perplessa del contenuto del contratto che mi ha girato, proprio perché intanto non si capiva bene chi fosse l'avvocato, lo studio legale che avrebbe dovuto svolgere l'attività, si parlava di un M-Team che sembrava un marchio riconducibile a avvocati paralegali, investigatori, lui dava il consenso a dare tutta una serie di informazioni personali e a nominarli quali procuratori in tutto il mondo. Diciamo che era un incarico che secondo me poco aveva a che fare con quello che lui realmente voleva, cioè contratti, tutela proprietà intellettuale e tutela del marchio, soprattutto anche in funzione della realizzazione di questo nuovo videogioco. Lui aveva un'esperienza di diversi anni in ambito di sviluppo di videogiochi e anche di assistenza e affiancamento di diverse influenze, però era la prima volta che entrava con una sua società e quindi doveva ancora capire alcune dinamiche. Soprattutto voleva capire cosa avrebbe potuto fare avendo ormai già pagato questa somma in anticipo e soprattutto se, così come gli era stato detto, per poter ottenere questi contratti anche da me avrebbe dovuto fornirmi tutta una serie di informazioni personali rispetto alle controparti, cioè a tutte le persone con cui lui avrebbe dovuto poi sottoscrivere i contratti, in particolar modo agli influencer che avrebbe voluto coinvolgere nel videogioco. Io quello che gli ho detto da subito è stato che per tutelare e quindi per scrivere un contratto valido a tutti gli effetti era importante capire quali fossero le esigenze, cioè cosa si doveva regolamentare, la finalità e quindi che tipo di accordo c'era tra le parti, ma che la controparte, quindi diciamo le informazioni personali erano un dato non necessario per stilare poi un contratto. Questo perché? Perché normalmente quando si prepara un contratto per il cliente si chiedono tutta una serie di informazioni, si chiede ovviamente la regolamentazione degli aspetti economici, che cosa le rispettive parti devono fare se ci sono delle prestazioni reciproche, ma ai fini dell'avvocato chi c'è realmente dall'altra parte se non distinzione tra persona fisica e persona giuridica, perché da un punto di vista di regolamentazione alcuni aspetti cambiano, ma in realtà io da subito gli ho detto guarda a me non serve avere tutti i dati personali, poi certo se vogliamo renderlo a tutti gli effetti definitivo per la firma sono dati che puoi darmi. In ogni caso un avvocato è tenuto sempre comunque al segreto professionale, quindi una volta firmato il mandato e l'incarico, qualsiasi informazione che tu mi darai comunque sarà coperta da... Però ci tenevo perché lo vedevo molto preoccupato e comunque molto dubbioso sul fatto che dovesse o meno condividere queste informazioni. Lui stesso dall'inizio mi ha detto io gestisco una serie di professionisti e di influencer e quindi vorrei essere a mia volta tutelato nel sapere se sono obbligata a dare delle informazioni e soprattutto che cosa ne è di queste informazioni. Comunque abbiamo cominciato a collaborare, i contratti sono stati fatti regolarmente, sono stati anche firmati, tanto è vero che il videogioco a un follow è già uscito con la demo e ha avuto già un buon riscontro e nel frattempo stiamo lavorando molto bene, la società è in crescita e non abbiamo più affrontato nel dettaglio gli aspetti del suo primo mandato a questo team di legali. Se non consiglio che ho dato da subito è stato quello di scrivere a questo studio legale che aveva comunque un riferimento all'avvocato italiano, insomma c'era un po' di confusione sotto. Quello che io gli ho detto è manda una mail perché intanto perché hai pagato dei soldi e quindi a fronte di un'attività che tu ancora non hai ricevuto e soprattutto perché volevamo capire se ci fosse la possibilità a questo punto di recuperare almeno in parte i soldi che aveva versato. non c'è stata nessuna risposta alla nostra mail ma anzi quando lui ha cercato di avere dei chiarimenti e delle lucidazioni ci sono state delle telefonate anche un po' aggressive dall'altra parte. Tant'è vero che quando lui poi me ne ha parlato anche un po' dispiaciuto perché non capiva come mai si fosse creata questa situazione tra avvocato e cliente un po' spiacevole mi diceva guarda io mi sono fidato perché comunque Francesca Bugamelli che è questa influencer che io volevo inserire nel mio gioco me ne ha parlato talmente bene che in effetti io ho firmato molto sulla fiducia. Tra l'altro poi mentre i mesi passavano andando a vedere tutta la varia documentazione ci siamo anche resi conto che addirittura il contratto che lui aveva firmato conteneva dei riferimenti a un'altra persona che sono stati corretti in corsa cioè sostanzialmente lui ha firmato il contratto e quando gli hanno rimandato firmato gli hanno rimandato il contratto firmato corretto nella denominazione. Anche questo diciamo che normalmente se ci si accorge può succedere per carità, nessuno è perfetto di avere una svista nella redazione di un contratto trasparenza e correttezza vuole che lo si faccia presente al cliente e gli si dica guarda è successa questa cosa ti rimando il contratto definitivo corretto rifirmiamolo. Comunque da subito io gli ho fatto presente che avendo lui sede in Giappone avendo loro sede negli Stati Uniti recuperare quelle somme sarebbe stato difficile lui mi ha da subito detto che in realtà quello che lui premeva era partire con l'attività regolamentare nel modo più corretto e preciso i rapporti con i suoi collaboratori con gli influencer che voleva seguire con gli sviluppatori del videogioco e quindi non aveva in quel momento diciamo tempo e energie da investire in questa ipotetica causa che sarebbe stata comunque difficile fino a quel punto noi siamo rimasti sul andiamo avanti a lavorare facciamo i nostri contratti andiamo avanti con la tutela della tua attività e dei rapporti con i tuoi collaboratori e poi vediamo in futuro se si può fare qualcosa devo dire che nel frattempo io non facendo diritto penale non occupandomi di casi di cronaca non è che mi sia poi molto soffermata sul nome MT, sul marchio MT mi aveva un po' lasciato perplessa l'aspetto professionale da un punto di vista prettamente di colleghi mi sembrava molto strano che dei colleghi operassero in quel modo però mi sono concentrata su quello che era poi il servizio che il mio cliente in quel momento mi chiedeva e quindi abbiamo portato avanti l'attività perché sono qui a parlare dell'MTEAM in qualità di avvocato di Sebastiano Serafine della Serafine Production perché Sebastiano qualche settimana fa mi ha contattata per dirmi che aveva ricevuto una notifica di un decreto di chiusura e indagini a suo carico da parte della Procura di Trento un'indagine penale che si era conclusa si vedeva già dal decreto che era stata archiviata però non si sapeva bene che tipi di reati fossero stati ascritti e soprattutto chi lo avesse correlato quindi in qualità di indagato aveva diritto ad accedere al fascicolo abbiamo fatto richiesta alla Procura che ci ha mandato l'intera documentazione e abbiamo appreso da una parte che l'MTEAM aveva correlato Sebastiano e la Serafine Production addirittura durante il mese di ottobre quindi ancora quando formalmente i loro rapporti erano in essere e a cavallo della mail che gli aveva un mandato chiedendo spiegazioni di come mai non avessero svolto nessuna attività ma soprattutto accusandolo di truffa riciclaggio modalità di pagamento illecite insomma condotte molto gravi e molto serie la Procura di Trento e il PM hanno svolto un'indagine molto accurata non si sono fermati soltanto alla documentazione ma hanno indagato anche rivolgendosi ad altre procure perché ci sono comunque in corso altri procedimenti penali che vedono coinvolti l'MTEAM e hanno chiuso le indagini sostenendo, valutando che non c'è nessun reato ascrivibile alla Serafine Production a Sebastiano Serafine semplicemente perché non ha commesso nessuna delle condotte che gli erano state ascritte da parte del legale dell'MTEAM ma cosa più interessante da un punto di vista di tutta la struttura poi della querela è stato che MTEAM ha utilizzato le informazioni comunque riservate che Sebastiano aveva girato loro quindi contatti privati di influencer richieste di assistenza e addirittura anche elementi che lui avrebbe voluto inserire in alcuni contratti o domande o richieste di assistenza da parte loro contro di lui cioè girando quello che era ricostruzione ad arte per far sì che lui risultasse colpevole di non si sa quale reato meglio i reati erano quelli per cui avrebbero voluto che venisse condannato ma che poi in realtà non sono stati verificati come esistenti qual è l'aspetto grave di tutta questa storia? è che da una parte sono state utilizzate delle informazioni modificandone il contenuto prendendo alcuni pezzi rispetto ad altri per sostenere comunque l'esistenza di reati che non ci sono ma soprattutto aver ricevuto dei soldi comunque dei pagamenti da parte del cliente sostenendo che fossero dei pagamenti illegali perché utilizzavano delle modalità di pagamento addirittura secondo loro illegali come Paypal quando il PM ha decretato in maniera del tutto serena che Paypal è una modalità di pagamento riconosciuta internazionalmente e che non è quello un pagamento illecito ma la cosa che è emersa è che nel corso delle indagini sono emersi invece le responsabilità a carico di MTM quindi tutta una serie di condotte che adesso sono al vaglio comunque degli inquirenti che hanno in qualche modo ribaltato la posizione quindi se l'MTM era l'accusatore alla fine delle indagini nei confronti di Serafini Production è stato quasi l'accusato ovviamente non c'è in questo momento da parte della Serafini Production nessuna procedura in corso le indagini sono state chiuse la procedura è stata archiviata però rimane comunque un senso di impotenza soprattutto per il fatto che in questo caso un cliente ha pagato dei professionisti per svolgere un'attività e questa attività non solo non è mai stata svolta ma le informazioni che lui ha dato sono state usate contro di lui questo richiede una riflessione ovviamente da un punto di vista legale da parte mia sul prestare molta attenzione quando ci si affida a dei consulenti anche ovviamente legali perché il rapporto avvocato cliente per forza investe tutta una serie di informazioni anche sensibili spesso si dà in mano all'avvocato la strategia della propria attività perché ci si affida per essere consigliati al meglio e quindi bisogna fare molta attenzione il passaparola va bene però deve essere verificato non si firma un contratto prima di averlo letto con molta attenzione e piuttosto chiedendo magari un secondo parere prima se non si conosce chi c'è dall'altra parte quindi in tutta questa vicenda diciamo che il danno che la Serafini Production ha avuto fino a questo momento è un danno economico e anche un'esperienza se mai spiacevole di essersi visto coinvolto in una procedura comunque penale per carità archiviata che però ha comunque un eco e un risvolto insomma serio e importante quindi questo era diciamo per chiudere il cerchio da un punto di vista poi strettamente giudico poi la procura farà il suo corso e scopriremo poi alla fine che cosa c'è veramente o chi c'è veramente dietro le M Team nel frattempo io smetto di seguire Bugalalla smetto di seguire M Team e inizio a pensare a me stessa e alla mia salute mentale tutto ciò che Francesca ha raccontato dopo l'estate del 2022 lo sono venuta a sapere tempo dopo tramite alcuni suoi video comunque seguendo le live di altri canali poi ecco che viene pubblicata una chiamata tra Jonathan Benamy e Giussi Campioni la mamma di una delle vittime di cui M Team seguiva il caso la sento e riconosco la voce della persona con cui ho parlato per mesi è lui ne sono certa il servizio delle iene poi ha dato ai miei occhi il colpo di grazia a tutta questa situazione arrivati a questo punto la situazione a me risulta alquanto palese Bugalalla ha cercato di avere una youtuber che stesse dalla sua parte semplicemente per avere più credibilità infatti quando non sono stata più così utile perché non credevo più alle loro parole hanno semplicemente smesso di provare a contattarmi Sebastiano è dunque riuscito a mettere fine a questa situazione il fatto che non abbiano mai svolto l'attività per cui sono stati pagati da Sebastiano nemmeno il contratto che avrebbero dovuto fare tra me e lui ha reso evidente anche a loro che credevo ovviamente a Sebastiano e di conseguenza presumo abbiano capito che non ero più utile alla loro causa ovvero essere usata come cassa di risonanza per farsi conoscere e magari arrivare anche a più persone si dice che coloro che fanno chiasso sui social siano gli account fake a mio parere non è proprio così se guardiamo in faccia la realtà le decine di video fatti da Bugalalla contro Roberta Bruzzone sono ben più gravi e fanno anche molto più chiasso perché quei profili fake non hanno assolutamente centinaia e centinaia di follower ma Bugalalla sì il punto ahimè più basso questa vicenda almeno per quanto mi riguarda l'ha toccata una manciata di settimane fa quando scopro che il mio manager è stato denunciato da M Team per riciclaggio di denaro evasione fiscale e truffa con il coinvolgimento di alcuni artisti influencer e youtuber e ovviamente in questo fascicolo sono stata citata anche io indirettamente mentre altri youtuber invece sono stati citati proprio con nome cognome e nome d'arte anche alcuni che con Sebastiano non hanno nulla a che fare ed ecco che a questo punto arriva il colpo di scena perché la denuncia è stata archiviata e la procura di Trento ha ricostruito la storia di M Team e le condotte illecite che hanno messo in atto anche nei confronti dei parenti delle vittime che avrebbero dovuto tutelare e voglio dirlo a chiare lettere questa volta a sostenerlo non sono io Roberta Bruzzone l'avvocato Gasperini l'avvocato Catania l'avvocato di Vergilio ma la procura di Trento a questo punto vi mostro parte di questo fascicolo ormai archiviato per dimostrarvi la verità in modo lampante ovviamente abbiamo dovuto oscurare tutti i dati sensibili ma il contenuto di questo fascicolo vi posso assicurare che è chiaro e cristallino tra l'altro voglio farvi vedere un minimo il foglio poi magari vi metto tutti gli screen senza alcun problema ma però è la procura di Trento a dire questa cosa ve lo assicuro parto in particolare la denuncia è stata depositata in data 3-10-2022 mediante il portale deposito atti penali del ministero della giustizia dall'avvocato Guglielmelli Antonio del foro di Napoli per conto della società statunitense TMS Group con sede nella contea del Kent stato del Michigan e degli studi legali che operano sotto il marchio M-Team la denuncia materialmente sottoscritta da tale Jonathan Benami o Benami incaricato in rappresentanza di tutti i membri che operano sotto il suddetto marchio evidenzia in capo a tale Sebastiano Serafini svariate ipotesi di reato tra le quali quelle di evasione fiscale riciclaggio e truffa con il coinvolgimento di presunti artisti influencer e youtuber sappiate che io faccio parte di quelle youtuber nel corso della successiva telefonata whatsapp il Benami ribadiva in modo molto coincitato quanto sostenuto nella denuncia ovvero che Serafini Sebastiano per il tramite della sua società giapponese la Serafini Production è il collettore di un sistema di evasione fiscale che coinvolge numerosi influencer e youtuber molto noti seguiti sui canali web che si concretizzerebbe nel seguente schema le prestazioni da parte degli influencer youtuber avverrebbero totalmente in territorio nazionale italiano i compensi derivanti da tali prestazioni vengono pagati dalle piattaforme coinvolte esempio youtube facebook tiktok eccetera direttamente alla società giapponese di Sebastiano Serafini il Serafini riversa il compenso di competenza dell'influencer youtuber già dedotto dalla percentuale di sua competenza trasferendolo tramite app quale wise e o paypal tutto rigorosamente in nero per il fisco italiano i trasferimenti di denaro per il tramite dei suddetti canali non rintracciabili comporterebbero la conseguenza del reato di riciclaggio in capo al Serafini ed autoriciclaggio in capo agli influencer youtuber vi ricordate che vi avevo detto di tenere a mente il pagamento tramite paypal se secondo benami o benami è un canale non rintracciabile allora perché ha accettato un pagamento effettuato tramite paypal tramite una terza persona oltretutto ma andiamo avanti con il fascicolo nel corso della telefonata il benami o benami ha cercato di aggravare la posizione del sebastiano Serafini riferendo che vi erano degli aggiornamenti non in precedenza prospettati nella denuncia già depositata e sostenendo che vi è una loro cliente pronta a denunciare e da testimoniare in relazione i meccanismi dei reati prospettati a questo punto vi leggo una parte di mail che M.Tim ha mandato alla procura come prova Sebastiano Serafini secondo quanto da lui dichiarato necessitava di poter avere contratti in modo da regolamentare il rapporto tra lui e i suoi business partner al fine di ottenere credibilità nel caso persone interessate ad investire del capitale ne avessero chiesto copia l'operato di Serafini è gestito comunque senza questi contratti a tutt'oggi a meno che non abbia trovato uno studio legale disposto a ridicere contratti fasulli è molto grave questa affermazione molto grave secondo la testimonianza raccolta la cliente è a disposizione per essere sentita loro propongono questi accordi di gestione management poi chiedono di poter avere il potere di aprire conti correnti per i loro clienti all'estero Giappone Emirati Arabi Thailandia e Tenerife Canarie vengono pubblicizzati eventi o games che si svolgeranno in questi paesi per esempio alle Canarie quando di fatto non avvengono per quanto pubblicamente pubblicizzati aprendo comunque i conti correnti all'estero allora posso garantirvi che i games di cui parlano esistono come uno è già uscito e ce ne sono molti altri in lavorazione il settaggio dei compensi delle piattaforme youtube e twitch vengono modificati indicando di mandare i bonifici su questi conti esteri ma ora arriviamo alla ricostruzione che la procura ha fatto perché se ricevono una denuncia da un certo Jonathan Benami o Jonathan Benami chiaramente indagano premesso quanto sopra il maresciallo capo Tevini nel corso della telefonata avuta con il denunciante quindi con Jonathan Benami o Jonathan Benami ha avuto l'impressione che vi fosse un interesse particolare e poco professionale da parte sua nel procedere nei confronti del Serafini e degli influencer youtuber inoltre il sottoscritto ha avuto l'impressione che vi fossero elementi di fatto non conformi a quanto risultava dai documenti depositati in particolare il suddetto Jonathan Benami o Benami che dal nome si presume cittadino statunitense nel corso della telefonata parlava molto bene l'italiano senza inflessione straniera e con una lieve cadenza milanese in realtà nella denuncia il suddetto Jonathan Benami non viene mai identificato e non viene citato un documento identificativo risulta anche sospetto il fatto che per il deposito della denuncia a Trento il Jonathan Benami si sia avvalso di un avvocato del foro di Napoli lo stesso Jonathan Benami nel corso della telefonata vantava il fatto che il suo M-Team era stato coinvolto in molteplici indagini in Italia presso numerose procure sia in materia di riciclaggio che in materia di tutela della privacy in internet omicidi suicidi ed altro e che la sua società ha a disposizione mezzi tecnologici notevoli tra i quali diversi satelliti e sistemi di intercettazione messaggistica di tutte le piattaforme Whatsapp Telegram eccetera eccetera a questo punto la procura ricostruisce ciò che è accaduto nel caso Cantone sottolineando che in merito alla morte di Tiziana Cantone a seguito di una trasmissione televisiva dove il legale napoletano della M-Team ha annunciato novità eclatanti in merito un giornalista scopre che a capo di questa società vi sia un tizio che dice di trovarsi in America e che si fa chiamare John Peschiera questo Peschiera però aveva inviato per la sottoscrizione del contratto con la famiglia Cantone un documento falso dal quale emergeva il nome Henry Jovine a questo punto viene fatta una visura delle banche dati e la procura scrive chiaramente che il suddetto Jonathan Benamy è un alias di Zeppellini Mirko e che lo stesso ha utilizzato altri alias quali Peschiera John John Kaylee questa polizia giudiziaria ha provveduto ad effettuare visure delle banche dati in uso al corpo da cui emerge che il soggetto è identificabile in Zeppellini Mirko nato a Milano con ultimo domicilio in Italia a Bresso provincia di Milano questa cosa ragazzi vorrei ricordarvelo non ve lo sto affermando io o l'avvocato di Virgilio è ciò che ha ricostruito la procura di Trento inoltre il Benamy Jonathan è stato controllato in data 7.11.2021 presso l'aeroporto di Fiumicino dal passaporto risultanato negli Stati Uniti ulteriore Benamy è stato controllato in data 23.08.2022 presso l'aeroporto di Verona dal passaporto risultanato in Israele quindi i ROS di Roma in pratica si attivano e dal 15.09.2022 c'è un avviso di rintraccio per verificare se si tratta di un cittadino italiano con documenti falsi la procura quindi conclude che si ipotizza a carico dello Zeppellini Mirko il reato dell'articolo 496 del codice penale ossia false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri mentre i fatti di reato ipotizzati non hanno trovato adeguato riscontro né negli elementi forniti dal denunciante né all'esito delle indagini le questioni rappresentate dal denunciante a quest'ufficio paiono semmai avere natura meramente civilistica e non involgere profili di responsabilità penale né dall'indagato né dagli artisti influencer youtuber e streamers che con i seraffini avrebbero collaborato allora è chiaro che io attualmente mi sento in colpa ma tanto in colpa perché in qualche modo avvallando il mito do eme team e supportando bugalalla ho in qualche modo alimentato i raggieri che coinvolgono delle persone che si trovano in stati di enorme fragilità per aver perso il loro caro di nuovo io vi invito ad andare a vedere la live di crime doors in cui è presente anche giusi campioni bugalalla l'ha accusata in live di estorsione in conclusione spero vivamente che tutti pensiate più o meno la stessa cosa questa situazione va fermata perché come hanno tentato di denunciare il mio manager mettendo in mezzo anche parecchi esponenti di youtube italia potrebbero denunciare chiunque sia chiaro che la denuncia nei confronti di sebastiano è stata archiviata a conclusione delle indagini preliminari questo vuol dire che la procura ha verificato i fatti i documenti e non ha trovato nulla di quanto sostenuto da mteam nel fascicolo inoltre si parla di una persona che si sarebbe resa disponibile per testimoniare circa il sistema creato da sebastiano quindi questa persona di cui tra l'altro non si fa nemmeno il nome avrebbe testimoniato il falso perché questo sistema semplicemente non esiste ma in ogni caso non è mai stata sentita perché la procura di trento sulla base delle indagini svolte ha concluso che il fatto non sussiste concludo dicendo che questo non è un video dissing non è un video per fare gossip io ci sono rimasta malissimo quando ho letto questo fascicolo ve lo dico chiaramente ci sono rimasta malissimo e quindi ora sapete anche come si è conclusa questa storia di modo da avere sia un inizio ma anche una conclusione che insomma torni e chiuda il cerchio ovviamente potete farmi tutte le domande che volete qui sotto nei commenti e io sono pronta a rispondere alle vostre domande vi prego fate attenzione è l'unica cosa che posso dire noi ci vediamo molto presto nel prossimo video io vi mando un bacione datemi bene mi raccomando a rispondere alle vostre domande